Andrea Vassalotti, centrocampista del Riccia, con molti nuovi innesti, sembra che giochino a Riccia già da diverso tempo per come si sono ben integrati. Sì, anche in allenamento, già dal primo minuto in cui ci siamo cominciati ad allenare insieme, hanno subito cercato di fare gruppo con noi e quindi siamo stati fortunati ad avere questi nuovi innesti. Anche se abbiamo avuto molte difficoltà con le cessioni di almeno 6-7 giocatori principali della nostra squadra nel mercato invernale. Si è chiuso quindi il girone d'andata, qual è il bilancio tuo personale e anche quello di squadra dopo questa prima metà di campionato? Sono abbastanza soddisfatto ma penso che si possa fare sempre meglio ed andare oltre e cercare la salvezza il prima possibile.